dal sistema della scuola. Qui di nuovo invece le risorse si mettono dentro, quindi se è vero che far scuola non è riempire un secchio ma accendere un fuoco a chi aveva tolto completamente l'ossigeno, qui si cerca di rispondere invece mettendo a disposizione della grande comunità educante tutta la legna necessaria. Poi ovviamente queste riforme camminano sulle gambe dei nostri insegnanti e dei nostri ragazzi, quindi quando è giusto fare delle piccole correzioni, come avviene in parte in questo caso, ovviamente è giusto che il Parlamento ed il Governo si mettano a disposizione di quella comunità perché la scuola funzioni al meglio. Questa riforma può funzionare soltanto attraverso questo tipo di collaborazione tra istituzioni e mondo della scuola, tra chi la scuola la fa tutti i giorni. Grazie. Grazie Presidente. Che l'intervento in campo scolastico di questo Governo appunto sul tema dell'istruzione fosse pasticciato l'ha detto lo stesso Presidente del Consiglio, che abbiamo fatto un pasticcio con questo decreto. Il decreto parlo, cioè il disegno di legge 107, quello che ha visto poi una mobilitazione del mondo della scuola che non si era mai visto negli ultimi anni. Questo disegno di legge, questo disegno di legge certifica il pasticcio, cioè basta vederlo, leggerlo e certifica che si va a intervenire sulla norma approvata nemmeno l'anno scorso e quindi si vanno a fare delle modifiche, delle correzioni che a nostro avviso introducono ulteriori pezze di appoggio che non certo imbelliscono il disegno di questo Governo nel mondo della scuola. Ricordiamo che c'è stato un iter di quel disegno di legge del 107 che ha previsto in Commissioni emendamenti canguro che facevano decadere tutti gli emendamenti dell'opposizione. Ha previsto un improvviso collegamento al documento di economia e finanza per avere una votazione a data certa e quindi velocizzare l'iter contro qualsiasi logica di confronto e di ascolto ed ha visto una fiducia nella Camera del Senato sul provvedimento che ha eliminato la discussione in Aula del Senato. Quindi è chiaro che con questi presupposti ci saremmo trovati poi ad una normativa raffazzonata con tra l'altro un solo articolo e centinaia di commi che definiscono il nuovo assetto della scuola. Quali sono i provvedimenti che in sostanza sono scritti in questo disegno di legge e su quali si interviene? Noi riconosciamo effettivamente nel campo per esempio dell'edilizia scolastica lo sforzo del Governo di intervenire su questo settore. A nostro avviso non è promosso il Governo, non è promosso e deve ripetere gli esami, perché se andiamo sulla specifica norma che c'è in questo decreto si fa riferimento a una norma di proroga, di appalti a quello che viene chiamato dal Governo il piano delle scuole belle, che in realtà è un piano che deve mantenere l'appalto ad alcune cooperative e ditte che agiscono nel mondo della scuola. La relatrice di maggioranza ha parlato di problema occupazionale. Sì, c'è un problema occupazionale su cui si interviene, ma in realtà questi lavoratori sono in ostaggio delle cooperative, delle ditte, di alcuni sindacati e del Governo che dal 2001 ha deciso una strada che noi stiamo ostacolando all'interno di questa legislatura e su cui proponiamo proposte alternative, tant'è che c'è un nostro disegno di legge in Commissione Lavoro che propone l'internalizzazione di un servizio che è inizialmente di pulizia, a cui poi sono stati dati ulteriori appalti per scuole belle. Però che cosa accade? Siccome è strutturato sostanzialmente sulla tenuta occupazionale e sulla tenuta di finanziare queste ditte che precarizzano il lavoro all'interno della stessa ditte, quindi con i lavori che sono a contratto con le ditte, succede che non è efficiente il progetto Scuole belle, perché si interviene con una tinteggiatura, con soggetti esperti a farlo, perché prima erano dedicati solo alla pulizia, e si interviene con tinteggiature su scuole che hanno magari bisogno di interventi diversi, quelli strutturali, quelli di sicurezza. E non c'è un piano organico che prevede un intervento coordinato e ben preciso, anche in ordine temporale, delle iniziative da mettere in campo per avere un'efficacia di intervento sull'edilizia scolastica. Cioè, se abbiamo una scuola che ha delle crepe, è chiaro che devo fare prima un intervento di messa in sicurezza che un intervento di tinteggiatura, ma questo non lo permette il programma del Governo, cioè non ha un quadro chiaro, un quadro operativo e un quadro di tempistica chiara che permette, diciamo, l'efficacia dell'utilizzo delle risorse. Quindi risorse sì, ma che vanno a ditte e cooperative che non necessariamente producono un intervento efficace nel mondo della scuola. Ricordiamo che nel provvedimento noi abbiamo, della 107 che è stata approvata dal Governo, dalla maggioranza, sono state inserite delle figure che si cosiddette organico potenziato che ancora ad oggi non hanno un ruolo preciso all'interno della scuola. Tanti si lamentano, ci scrivono che i docenti fanno semplicemente tappabuchi di ore e suppliscono altri docenti assenti senza poter portare un programma organico di intervento. Una norma su cui si interviene all'interno della 107 è quella che riguarda la delega al Governo del nuovo processo di formazione del reclutamento dei docenti. Su questa norma ci sono parecchie zone d'ombra da chiarire. Ci sono parecchie zone d'ombra e una di queste è quella che ci fa domandare, ma se un docente che sta facendo il tirocinio in questi tre anni va a sostituire un altro docente, perché può fare anche supplenze, almeno nella norma così come è scritta, non è chiarificatore e quindi non esclude la possibilità che il tirocinante possa fare anche le supplenze in questi tre anni. Cosa gli riconosciamo? Gli riconosciamo una retribuzione pari a quella del salario del docente o continuiamo a pagare con una borsa da tirocinio? Perché questo fa la differenza. Perché se siamo nell'ipotesi A, allora significa rendiamo il giusto lavoro alle persone che sono nel mondo della scuola. Se siamo nell'ipotesi B, significa che noi effettuiamo un taglio sulle risorse che ci servono per fare le supplenze nelle scuole. E questa è ancora una norma da chiarire. Questa è anche un'occasione mancata, questo disegno di legge, perché se il Governo si accorge che ci sono delle norme che sono state poco chiare, pasticciate, tant'è che si interviene, si doveva intervenire in maniera più approfondita e risolvere definitivamente tante di quelle norme, di quegli regolamenti su cui poi ora, oramai, i tribunali stanno impazzando. Perché ci sono una miriade di ricorsi, di docenti, di dirigenti che stanno colpendo il mondo della scuola, il mondo del Ministero. E quindi, a nostro avviso, andava chiarita ulteriormente, tant'è che abbiamo presentato anche una risoluzione su questo punto, per dire che innanzitutto i docenti che attualmente sono abilitati dallo Stato, perché lo Stato li ha fatti abilitare in funzione di un fabbisogno, devono essere assunti prima di qualsiasi altra forma di concorso che faccia accedere laureati che non hanno questa abilitazione. E invece questo non è previsto. C'è la norma che riguarda i periti tecnici. Abbiamo ascoltato tantissimo la retorica di questo Governo dell'attenanza a scuola lavoro, di una scuola che si avvicina al mondo del lavoro e che cosa si fa? Si toglie il titolo professionale ai diplomati, gli si chiede un percorso quindi al perito tecnico più lungo di istruzione, quindi di laurea, e questo crea un danno enorme in tante zone del Paese, dove il perito tecnico veniva rubato dalla scuola, il diplomato veniva rubato dalla scuola, dalle aziende del territorio, perché era una risorsa importante, era una risorsa tecnologica, una risorsa scientifica, su cui il nostro Paese è carente, lo dicono tutti i dati. Quindi io credo che l'occasione di questo provvedimento è stata perduta e quindi ci troveremo di fronte di nuovo ad una contrapposizione che avremmo voluto evitare, perché sarebbe stato molto più profigo per il Paese riuscire a risolvere dopo un anno di prova tutte le problematiche di questo provvedimento. Invece dovranno risolverlo i cittadini perché adesso, nel frattempo, mentre noi siamo qui, i cittadini stanno raccogliendo anche le firme per abrogare quattro norme della buona scuola che sono considerate assurde da una fetta importante della popolazione italiana. Grazie. Adesso ha facoltà di intervenire il rappresentante del Governo. Si riserva in altra fase. È iscritta a parlare la deputata Mara Carrocci. Prego. Grazie, Presidente. Funziona. Vorrei soffermarmi soltanto su alcune delle disposizioni che riguardano in modo più diretto la scuola. In quest'anno scolastico, come sappiamo, è entrata in vigore la legge 107, una legge importante che ha introdotto molte modifiche. Era prevedibile, quindi, che si sarebbero dovuti predisporre degli aggiustamenti in corso d'opera. Quando si introducono grossi cambiamenti, si deve monitorare.